E ora è il momento del mercato dell'arte con gli artisti che salgono e quelli che, ahimè, scendono. Malgrado inflazione, guerra e recessione, il mercato dell'arte nel 2022 ha tenuto, perdendo soltanto l'1% rispetto al 2021. E' quanto ci dicono i report internazionali che sono stati appena pubblicati. Ne parliamo con i nostri ospiti a Mercato dell'arte subito dopo la sigla. La bolla degli NFT, criptoarte, ascesa e declino. Cronaca del più clamoroso flop finanziario della storia che ha trasformato l'arte digitale certificata da sogno per pochi a incubo per molti. Lo ha scritto Alberto Fizzi sulle pagine di Arte Mondadori, oggi collegato con noi da Milano. Alberto Fizzi è un critico d'arte esperto di mercato dell'arte. Ne parliamo con Andrea Concas, imprenditore Artec, quindi di arte e tecnologie, fondatore di una rivista proprio dedicata agli NFT. E con me in studio Paolo Casicci, giornalista specializzato in design e architettura, che mi sta accompagnando in questa puntata. Allora Alberto, io direi innanzitutto di spiegare che cosa sono gli NFT nel campo dell'arte, che cos'è la criptoarte per coloro che ci stanno seguendo e che ancora non lo sapessero. Certo, allora gli NFT sono un sistema che consente di posizionare il prodotto artistico, questo è il motivo del suo successo, dando una serie di garanzie per quanto riguarda l'unicità del bene, la rintracciabilità e la verificabilità. E quindi è un non fungible token e fondamentalmente è una sorta di garanzia che viene fornita dalla tecnologia blockchain. Questo fatto ha creato una vera e propria bolla e anche una illusione straordinaria di poter finalmente investire in maniera sicura sull'arte digitale. Il problema dell'arte digitale era proprio questo, il fatto che non c'era la garanzia dell'unicità del bene e quindi in qualche modo questo creava delle ansie al collezionismo. Quindi in teoria con questo sistema di assoluta, diciamo che blindava il bene digitale, si è avuto la sensazione che questo mercato potesse decollare intorno agli NFT. Il nome che è tutto partito, scusami Alberto, con una aggiudicazione in asta straordinaria, parliamo di Bipol, siamo nel 2021 da Cristis con un NFT che è partito mi pare da 100 dollari ed è arrivato alla somma stratosferica di quasi 70 milioni di dollari. Esattamente, aveva fatto 69,3 milioni di dollari, portando Bipol a diventare il terzo artista più caro dopo Jeff Koons e David Hockney. Di Bipol non avevamo praticamente mai sentito parlare ed era un pubblicitario americano che non aveva mai fatto una mostra, che non era mai entrato nel circolo dell'arte. Ecco, a un certo punto si crea questa sorta di esplosione. Bipol appunto diventa protagonista assoluto, viene sostenuto fortemente dai fondi di investimento in criptovalute. Questa è poi una delle ragioni che ha portato a questa ambiguità di fondo tra finanza speculativa e arte, cioè quindi con la crescita delle criptovalute. Gli NFT sono esplosi in questo ambito e sono crollati nel momento in cui sono crollate le criptovalute. Quindi si è sviluppato questo mega fenomeno Bipol con il sostegno forte, e questo è anche un'altra delle anomalie e delle discrepanze di questo sistema, con il sostegno di una delle più importanti, Casa d'Aste, che era Cristi. Cristi ha consentito di acquistare in Ethereum l'opera. Quindi chi aveva acquistato gli Ethereum qualche tempo prima delle cifre molto più basse, ha potuto, diciamo così, sfoderare questa megacifra, spendendo in realtà molto meno, ma facendo una straordinaria operazione di carattere pubblicitario, con una risonanza mondiale. Quindi che cos'è successo? C'è stata la complicità delle case d'asta che hanno gonfiato a dismisura questo fenomeno, con appunto una serie di investitori molto interessati a sviluppare il mercato delle criptovalute, che hanno trovato negli NFT un ottimo strumento di diffusione, di espansione. E poi cos'è accaduto nel 2022? Ecco, nel 2022 è scoppiata la bolla. Ci si è resi conto che questo fenomeno era totalmente privo di contenuti. E cos'è accaduto? Che fondamentalmente, quello che io ho scritto, gli NFT in termini assoluti hanno perso oltre il 90%. E si è passati da un fatturato da 232 milioni di dollari nel 2021 a 13 milioni di dollari l'anno dopo. A un certo punto c'è stata una vera e propria fuga dagli NFT. Tutti avevano la sensazione di essere investitori acquistando sulle piattaforme, dove la moltiplicazione dei prezzi era strepitosa, senza limiti. Evidentemente tutto questo, basato su una situazione di carattere estetica totalmente inesistente, in base a dei prodotti legati ad un immaginario dei videogiochi, anche molto vintage, perché in realtà appunto al di là di questa straordinaria invenzione tecnologica, quelli che hanno fatto prezzi strepitosi come queste board ape, queste cimiette annoiate dei Yuga Labs per esempio, facevano parte appunto di un repertorio già anche abbastanza consumato, così come i criptopunk e questi criptogattini che sono arrivati a costare addirittura 17 milioni di dollari. Ecco, Andrea Concas, scusami Alberto, vorrei dare la parola ad Andrea Concas, che è un imprenditore che ha investito molto sugli NFT in termini anche di pubblicazioni, ha dedicato un magazine e poi anche un libro di cui parleremo. Andrea, cosa ne pensi delle parole di Alberto? Condividi la sua analisi? Oggettivamente non posso condividerla, bisogna prima fare una differenziazione tra quelli che sono i collectible, quindi i board ape, i criptopunk, quella che è la criptoart. Quindi se iniziamo a generalizzare, questo potrebbe creare una malcompressione. Come nel mondo dell'arte tradizionale, non tutte le opere d'arte sono tale, esistono le opere grafiche, l'ingegno, non tutte assumono un valore in mercato così per gli NFT. Per me qua vi è una differenza sostanziale, perché per la definizione, almeno per quella che in questo periodo va per la maggiore, o quantomeno anche secondo la mia personale visione di criptoart è quella dell'utilizzo da parte dell'artista di strumenti basati su database distribuiti, che siano SNFT, Web3, già nella sua fase di creazione dell'opera, nella sua ricerca. Diventano quindi dei medium. Cosa diversa sono i collectibles, che sono attività di community management, di marketing, quindi le Voredate, il CryptoPunk, il CryptoKitties, sono ulteriori progetti che oggi hanno declinazioni nel marketing, così come i grandi brand della moda, e tanti altri sono entrati. Cosa diversa invece per la criptoart, dove l'artista, così come lo scultore, decide di scegliere il materiale lapide o legno nel momento di creazione della propria opera, decide che la sua opera viene studiata a monte con l'utilizzo di supporti tecnologici, tenendo in considerazione tutto quello che ne consegue. La community, i marketplace, dove andrà distribuito, come i collezionisti potranno interagire nel collezionarlo o nel gestire queste SNFT in futuro. Tutto questo va, ovviamente, in maniera più profonda nel ragionare quando si parla di art. Se poi vogliono parlare di speculazione finanziaria, allora ci sono sicuramente dei pattern che sono similiari agli investimenti, ma questo lo possiamo anche dire per le opere d'arte. Allora bisogna capire bene di che cosa parliamo. Senti, il tuo libro, scusami, Crypto Art Begins, edito da Rizzoli, illustrati, ecco, quali autori prende in considerazione in questo campo, quello appunto della cripto arte? Questo libro è stato fatto volutamente insieme a DNFT Magazine, Rizzoli, curato dall'Onora Brizzi, selezionando 53 migliori artisti che, in qualche modo, tramite la loro visione, hanno contribuito a creare questo mondo anche in tempi non sospetti, 2016, 2014. Perché? Perché negli ultimi anni, dall'avvento di Bipol, che io stesso ho definito il battesimo della cripto arte degli NFT, c'è stata una grande confusione. Si è parlato soltanto di soldi e non di valore artistico. Allora si è scelto di fare un libro in cui si va a raccontare questo movimento della cripto arte, questo nuovo trend, secondo diversi punti di vista, che non siano esclusivamente quelli economici, anzi, non si parla assolutamente di mercato. Talvolta, tramite delle interviste, la selezione di questi artisti, che ognuno ha dato un suo apporto, una sua visione, talvolta più profonda, talvolta più superficiale, però capiamo qual è la ricerca di ETH. Allora è solo così che possiamo iniziare a creare del valore nei confronti di questo movimento, così come è successo dall'arte digitale, che è insegnato, esiste dagli anni 60, quindi è stata musealizzata. Oggi, nel 2023, parliamo di mercato, ma non parliamo del fatto che il MoMA ha fatto la prima mostra di NFT, così il Centre Pompidou ha aperto la sua collezione, eccetera, eccetera. Quindi serve tempo per creare le basi per la storicizzazione, musealizzazione anche di questi medium, se così li possiamo definire. Se poi vogliamo parlare di NFT, assolutamente possiamo disquisire in tante applicazioni. Ebbè, è proprio vero, il tempo è sempre un giusto giudice, anche nel campo dell'arte. Io ringrazio Alberto Fizze e Andrea Conca, storneremo a occuparci di NFT e non solo.